Il secondo istituto scolastico comprensivo Alessandro Volta di Florida insiste su un territorio particolarmente delicato dal punto di vista di quello che è la legalità. Quindi i suoi studenti e tutte le famiglie degli studenti hanno bisogno di essere aiutati, guidati. La scuola in questo caso si propone dei progetti. Scuola maestra di legalità, addirittura la mafia verrà sconfitta da un esercito di insegnanti. Perché e come? Allora innanzitutto diciamo che per noi la legalità vale per tutti, non solo per i ragazzi come dire deprivati socioculturalmente ma soprattutto per la classe media di ragazzi che magari nei tempi attuali e che sono tra virgolette un po' viziati, che non hanno il rispetto di regole, non sempre hanno questo rispetto di regole. Quindi lavoriamo per gli uni e per gli altri. e per noi il progetto legalità è stato sempre uno degli assi portanti del nostro lavoro di educatori e di insegnanti. Crediamo molto come abbiamo messo nella locandina appunto scuola maestra di vita ed è così. La scuola come ha detto qualcuno non è soltanto scuola di vita ma è vita essa stessa. Quindi se noi riusciamo a dare l'esempio, noi adulti, insegnanti, educatori, genitori, sicuramente qualche ragazzo riusciamo a recuperarlo e oggi ce n'è tanto bisogno e come diceva lei soprattutto in una realtà un po' a rischio nella quale noi ci troviamo ad operare. Un appuntamento quello di venerdì 14 dicembre alle ore 9.30 alla sala congressi comunale di Contrada Vignarelli nella zona artigianale di Floridia con un giornalista e scrittore. Perché Paolo Borrometi? Appunto considerato l'importanza di una educazione alla legalità crediamo che figure come Borrometi, come in passato Falcone, Borsellino, Saviano ed altre figure possano veramente costituire un esempio di coraggio, un esempio di libertà di coscienza perché nel suo libro Borrometi dice proprio questo che lui è disposto a rinunciare alla sua libertà fisica diciamo così per la libertà interiore. Questo è il messaggio che noi speriamo emerga come dalle pagine del suo libro anche nella conferenza e lui tiene molto a questo rapporto con gli studenti e quindi siamo molto orgogliosi di ospitarlo. Abbiamo esteso l'invito a tutta la cittadinanza perché crediamo che sia un momento fondamentale non solo per la nostra scuola ma per tutta la comunità floridiana. Naturalmente nell'ottica di una apertura al territorio e a tutte le associazioni abbiamo naturalmente avuto, ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha fornito la sala congressi per poter naturalmente dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare ma abbiamo anche un rapporto molto stretto con l'associazione Libera che è l'associazione antimafia per eccellenza quindi questo come dire è molto importante per noi continuare questo rapporto di collaborazione con tutti perché crediamo che dalla comunità scolastica alla comunità civica si possa veramente tentare di combattere quella mentalità mafiosa che è il brodo di coltura della mafia vera e propria.